Shalom, 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 Shalom. Eccoci qui con una lezione breve e prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yehawah nel nome di suo figlio e nostro re salvatore e rendentore Yehawah Shai e nel nome dello Spirito Santo Rukah Kodash. Eccoci qui, questa lezione sarà basata sul marchio della bestia e questo è la Son, una piattaforma di giornali molto conosciuto e questo è un articolo pubblicato il 18 febbraio 2021 che sono circa 4 giorni fa se non sbaglio. Ok, qui dice Bitcoinsky La Russia potrebbe diventare il primo paese a rendere l'intera valuta digitale mentre la criptovaluta esplode. Ok? E noi della Great Millstone iniziando dai nostri apostoli anziani iniziando dall'apostolo Traha hanno sempre insegnato che il marchio della bestia che si trova nel libro di Apocalisse capitolo 13 Ok? Questo è il libro di Apocalisse capitolo 13 e versetto 16 dice E fa sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi ricevano un marchio nella mano destra o sulla fronte e affinché nessuno potesse comprare o vendere tranne chi aveva il marchio o il nome della bestia o il numero del suo nome. E come sapete quello che vedeva Giovanni era il microchip Ora arriveremo anche al microchip Dunque leggiamo un po' La Russia potrebbe diventare il primo paese a rendere l'intera valuta con il boom delle criptovalute E sapete che negli ultimi anni si sente parlare molto delle criptovalute Soprattutto la Bitcoin Ok? E avete visto dunque come stanno facendo salire questo Bitcoin Nemmeno l'oro sale come sale il Bitcoin Ora penso, se non sbaglio Un Bitcoin vale sui 50.000 dollari E questo lo fanno appunto Lo fanno appunto così la gente va ad investire nei Bitcoin Vedono che cavoli Una volta costava 10 dollari Potevo investire E quelli che hanno investito Da poco così Sono diventati dei miliardari Allora tutti sono condizionati ad andare Sempre in più Quelli che hanno soldi intendo A investire su questo Così spostando La nostra Come si dice? La nostra valuta Ok? Il denaro A questi Cryptocurrency qui Che leggiamo un po' Sono in corso discussioni sul lancio del rublo digitale con le banche locali Il cane da guardia finanziario del paese ha riferito Che avrebbe presentato un concetto più dettagliato entro l'estate Ok? Sono in corso le discussioni sul lancio del rublo digitale Il capo della banca centrale russo Elvira Nabiulina ha affermato che l'autorità di regolamentazione ha ricevuto un feedback dettagliato dalla comunità bancaria sulla prospettiva di un rapporto di ottobre Ok? Secondo un rapporto di RT Che conoscete che RT Porta i giornali È molto conosciuto La maggior parte dei istituti di credito Ha espresso il proprio sostegno su un modello A due livelli Del rublo digitale Il modello che incentirebbe Alle banche di aprire portafogli Per i propri clienti Sulla piattaforma della banca centrale E condurre operazioni con la valuta Nabiulina ha dichiarato Svilupperemo un concetto più dettagliato E inizieremo a discutere con il pubblico Gli operatori di mercato E le banche All'inizio dell'estate Ok? Il passo successivo Comporterebbe il lancio E il test di una piattaforma speciale Che è la dotazione della nuova forma di moneta Richiederebbe una modifica della legislazione La banca centrale russo ha rivelato I suoi piani Il suo piano Per valutare la possibilità Di creare una forma digitale Della valuta nazionale del paese Nel suo rapporto pubblico Nell'ottobre dello scorso anno Ok? Il rublo digitale esisterebbe insieme ai rubli in contanti E non ne consentirebbe E non E consentirebbe Agli utenti privati e aziendali Di trasferire liberamente I rubli digitali ai loro portafogli elettronici E lascerò E vedete qui Dice il prezzo di un singolo bitcoin Parlando di 4 o 5 giorni fa Ha raggiunto quasi i 48 Ok? 1000 dollari Ok? Dopo l'annuncio che gli investitori ritengono Mostri che i mercati delle criptovalute Stanno iniziando ad essere Abbracciati dal mondo della finanza tradizionale Siamo staccati che BNI, Y, Melon La banca più antica dell'America Hanno annunciato i loro piani Per incorporare bitcoin Nelle loro attività multimiliardarie Perciò Dovete avere lo spirito Per vedere queste cose che stanno succedendo Questo è il passo E per far arrivare queste cose Non ci vuole più tanto Ora Andiamo a leggere un altro articolo Ok? Vedete questo non è Non ha nulla a che fare con la spiritualità Questo è computerweekly.com Ok? Soldi in mano E questo è stato pubblicato sempre il 18 gennaio Ok? Questo è stato pubblicato il 18 gennaio di quest'anno Ok? No Nel 2018 Ok? Che dice Questo impianto di criptovaluta Proteggerà la tua scorta di denaro contante Vedete Il futuro dell'archiviazione e del pagamento sicuri delle criptovalute È semplicemente contante in mano Inspect a gadget Osserva come l'impianto di microchip umano di un'azienda potrebbe aiutare Abbiamo tutti guardato con interesse Mentre le montagne russe di bitcoin sono salite Si sono tuffate e sono nuovamente aumentate nelle ultime settimane Piuttosto il giro per coloro che si sentono uniti presto Tuttavia anche l'interesse interessante è il modo in cui gli interi ecosistemi si stanno Ora sviluppando per supportare con loro Le cui tasche virtuali si stanno improvvisamente gonfiando di monete virtuali Tra coloro che chiedono un passaggio di Ci sono le aziende con nuovi modi per proteggere i tuoi soldi informatici E vedete Un passo avanti L'azienda danese B-Chip Con il suo impianto microchip umano Promette di aiutarti a dire addio alle preoccupazioni relative all'acchiviazione sicura di criptovalute E salutare i pagamenti più facili Ok? E vedete qui si parla un po' di bitcoin E lascerò questi link nella descrizione di questo video Così se qualcuno vuole andare a vederli Sono in inglese ma dovete tradurre la pagina per capire di più E vedete qui Questo è il microchip Cosa faranno? Incomporeranno questo microchip con i soldi virtuali Con i tuoi documenti Con la tua tessera sanitaria e tutto il resto Infatti per dare la prova che uno è stato a presa di veleno Che non voglio nominare sapete cosa Uno dovrebbe avere una sorta di certificato Questa cosa la faranno In questo microchip qui Perciò Questo è per farvi vedere che siamo proprio vicini a quei tempi Che dice qui Il libro di Apocalisse Capitolo 13 E versetto 16 E fa sì che tutti i piccoli e grandi e ricchi e poveri liberi e schiavi Ricevano un marchio nella mano destra o sulla fronte E affinché nessuno potesse comprare o vendere Tranne chi aveva il marchio o il nome della bestia O il numero del suo nome Per capirne di più ne ho fatto già un video riguardo In questo versetto qui Il numero del suo nome E noi sappiamo Dallo Spirito Santo La Rukaku Dash Ok? Attraverso lo Spirito Che ha rivelato ai nostri apostoli Iniziando dall'Apostolo Taha Che Il marchio della bestia Sarà il microchip Ok? E detto questo Vi dico che è tutto legato insieme Dovete essere osservanti e pregare Affinché il Padre Vi possa aprire gli occhi Ok? E detto questo Spero siete stati edificati E lascio tutto Questo nel sacro nome del Padre Yehawah Nel nome di suo figlio Yehawah Shai Il nostro re e rendentore E i miei doppi onori Agli apostoli e anziani Della Great Mewstone GMS Per avermi insegnato questa verità Che è la pura verità Pace e saluti Agli eletti della casa di Yasharala Alla prossima Shalom Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti